In questi giorni purtroppo si sta concretizzando quello che avevamo previsto e denunciato pubblicamente da più di un anno. Stanno infatti arrivando le salatissime bollette dell'acqua targate Consac a denunciare quanto sta accadendo nel comune di Castellabate e il consigliere di opposizione Luigi Maurano. Il costo dell'acqua pubblica, sottolinea, è triplicato e questo dipende solo e soltanto dalla scelta scellerata del sindaco Spinelli e della sua squadra, Maiuri, Di Luccia, Nicoletti, Martuscelli, Niglio, Di Biasimarco, Cardullo e Marinelli, di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla società Consac, una società che ha le tariffe di consumo più alte di tutto l'ambito. Hanno messo le mani nelle tasche dei cittadini, hanno costretto tutti a dover pagare il triplo rispetto a prima per un bene primario ed essenziale per la vita delle persone, l'acqua. Abbiamo cercato in tutti i modi di farli redimere, manifesti, consigli comunali, raccolta firme, ma cocciutamente questi esattori non hanno ascoltato e volutamente hanno fatto aumentare le bollette dell'acqua. Una decisione continua a Maurano che non era presente nel loro programma elettorale, perciò siamo di fronte ad un vero e proprio tradimento verso i cittadini di Castellabate. Tra poco più di un anno, quando questa amministrazione sarà solo un brutto ricordo, bisogna subito annullare la convenzione con la Consac e abbassare le tariffe dell'acqua. Ma per farlo c'è bisogno della partecipazione di tutti. È il momento che anche i cittadini reagiscano. Se non ora quando, perché fin quando ci saranno loro ci sarà la Consac e fin quando ci sarà la Consac ci saranno queste bollette salatissime.